Hanno preso il via lo scorso 1 ottobre i lavori di restauro della Chiesa Madre di San Cataldo, un intervento necessario e urgente che è stato illustrato alla comunità parrocchiale e ai cittadini nel corso di un incontro domenica scorsa nella Chiesa di San Giuseppe dall'architetto Giuseppe Di Vita, direttore dei lavori di restauro che interesseranno in modo particolare l'antica facciata in pietra da taglio e l'impianto elettrico. L'antica chiesa, così come è stato evidenziato dall'architetto Di Vita nel corso dell'incontro, nonostante la cura e le attenzioni nel corso degli anni, non ha mai goduto di una buona salute a causa dei micromovimenti e della struttura, che nel passato ne hanno compromesso la stessa esistenza come il 24 aprile del 1965 e quando il Duomo fu chiuso al culto dei fedeli a seguito di un'ordinanza del sindaco del Tempo. Una decisione alla quale tutta San Cataldo si ribellò, aggravata ancora più dalle voci inesistenti della necessità di abbattere la Chiesa per ricostruirla in un luogo più sicuro. Le tante proteste dei San Cataldesi non furono vane. Difatti fu ufficialmente comunicato che la Chiesa Madre, pur rimanendo chiusa per ragioni di sicurezza, non sarebbe stata più demolita. La costituzione di un comitato cittadino riuscì attraverso un coinvolgimento della popolazione e delle istituzioni locali a raccogliere fondi da utilizzare per alcuni lavori urgenti di risanamento. Lo stesso impegno che oggi l'arciprete, Don Biagio Biancheri, chiede ai San Cataldesi a sostenere le spese dei lavori di restauro che ammontano a circa 223 mila euro, per il 50% finanziati dalla CEI, conferenza episcopale italiana, grazie all'interessamento del vescovo Monsignor Mario Russotto, mentre il restante 50% a carico della comunità della Chiesa Madre e della generosità dei cittadini. Sono iniziati i lavori di restauro della facciata della Chiesa Madre e del suo interno che interesserà l'impianto elettrico. Un restauro che si è reso necessario e urgente per l'usura del tempo. La Chiesa Madre è il tempio più importante della città, che segna la storia della comunità e appartiene a tutti. Pertanto invito tutti a partecipare a questo restauro che riporterà la Chiesa Madre a quell'antica bellezza che continua a salvare il mondo.